che schifo tutti insieme eh già questo c'è un pochino più frizzante un pochino vabbè che ci sono le 11 passate magari uno un pochino stanno però noi ti vogliamo rendere partecipi soprattutto del successo dell'auto dello scorpione la bianca la blu così così a verde non esaltiamo vediamo una seconda possibilità eh secondo manci senta la tua guardia attenzione al quartiere su eccoli bene qui al più 3 forse eh troviamo a orare tra 1,2,3 questo c'è il meglio fatevi un applauso dove siete fantastici la dottore dal contro lentamente ci vediamo dalle 2 alle 4 volte fantastico del scorpione, fantastica la fiota, discreta l'auto blu